Ciao a tutti ecco qui il costume allora abbiamo la parte che si mette sul collo qui abbiamo un qualcosa di elastico quindi andrà bene per qualsiasi diciamo taglia qualsiasi taglia qui può andare a differenza invece dei guanti vedete che sono molto molto piccoli io non ho una mano grandissima però sicuramente sono dei guanti che hanno una taglia da bambini più che altro quindi adulti probabilmente faranno fatica con a utilizzare a utilizzare questi guanti perché sì è vero che comunque possono essere tirati un pochino però ovviamente un pochino un pochino stringono poi abbiamo il mantello mantello che è in realtà semplicemente un pezzo di stoffa dove abbiamo il cappuccio che è un cappuccio tra l'altro vedi vedete neanche arrotondato quindi proprio un sacchetto girato un pochino fatto fatto a cappuccio e davanti abbiamo l'unica chiusura che è questa qua quindi abbiamo questo questo pezzettino questo lacetto che va a chiudere sulla parte del collo e poi sotto è tutto aperto quindi è proprio un mantello davanti dovrete poi vestirvi questa invece è possibile si smonta in tre parti uno due e tre e questo viene via è una plastica bruttissima infatti qui tra l'altro vedete l'ho messo dentro ma non è non andavo ho dovuto sforzare un po' l'ho rotto un pochino insomma una ventina di euro prendete un quello di certo non è niente di non è un vestito di altissima qualità quindi massimo massimo 20 euro secondo me è un prezzo che si può spendere vale molto di meno sicuramente però se lo volete va bene fa magari la sua figura io sinceramente ne cercherei un altro ce ne sono tanti su amazon magari un pochino più di qualità ciao